La coppia è un argomento che condiziona molto la nostra quotidianità, se ci pensiamo passiamo giornate intere, passiamo tantissimo del nostro tempo a cercare questo amore, quando lo abbiamo trovato cerchiamo di tenercelo, abbiamo paura di perderlo, soffriamo se fa qualcosa, soffriamo perché siamo gelosi, diventiamo possessivi, ci condiziona tantissimo, c'è anche questa idea un po' di ritrovare l'anima gemella, come se pensassimo che ritrovando questa metà di noi perfetta, tutto ad un tratto va tutto bene, stiamo bene, quella persona andrà ad appagarci, a completarci perfettamente. Ci sono varie illusioni dietro questi modi di pensare e di ricercare, ma in realtà c'è un motore profondo, un motore animico che ci spinge a cercare questa metà perfetta di noi, che ci spinge a completarci ed è un motore fondamentale per la nostra evoluzione. Già per chi mi segue o per chi è già venuto a dialoghi, ho già sviluppato in precedenza il concetto di separazione, dove in principio in quanto anime eravamo un tutt'uno con l'assoluto, un tutt'uno con l'universo, non avevamo la consapevolezza, la coscienza dell'individuo, dell'io, eravamo in uno stato di coscienza dove non avevamo in noi il concetto di due, di dualità, non esisteva io, te, io, Dio, io e l'anima, tutto era un'unica sola entità, era uno e essendo uno eravamo anche, e lo siamo tutt'oggi, ma eravamo come eravamo parte integranti di Dio o comunque di questa intelligenza superiore, di questo amore assoluto, eravamo parte di esso, quindi eravamo come Lui. Ma visto che non avevamo la consapevolezza, la faccio breve oggi, non avevamo la consapevolezza di questo nostro stato divino, c'è stata data la possibilità di tuffarci in una dimensione terrena, materiale, in una dimensione duale per conoscere la nostra individualità, per diventare consapevoli della nostra divinità, della nostra spiritualità. Quindi abbiamo iniziato un processo di separazione dall'assoluto, pensate all'immagine di Adamo e Deva che assaggiano il frutto della conoscenza del bene e del male. Per la prima volta c'è il concetto di dualità e questo assaggio è un po' l'incarnazione che stiamo vivendo oggi. Siamo venuti in una dimensione materiale, duale, per conoscere la separazione in tutte le sue forme. Siamo in una dimensione dove tutto ha un opposto, bene, male, ombra, luce, giorno, notte, sole, luna, uomo, donna. Tutto ciò che in questa dimensione superiore esiste in un'unità, in un concetto di uno, in un concetto di non separazione, in questa dimensione si esprime ad opposti. Questi opposti hanno delle energie particolari, si distinguono possiamo dire in polo negativo e in polo positivo e vengono anche chiamati energia femminile ed energia maschile. Non sto parlando di uomo e donna, sto parlando proprio di archetipi universali attraverso i quali l'uno si esprime nella materia, cioè ciò che era un solo simbolo nel corso di questa evoluzione si è separato in due parti. Infatti anche noi in principio eravamo una goccia, si parla di anima gemella, nel momento in cui abbiamo iniziato questo tuffo verso la separazione, ci siamo separati in due polarità, una polarità negativa, femminile, luna, una polarità positiva, maschile, sole. Questi due archetipi abitano ogni cosa in questa dimensione ed è attraverso la loro unione che l'assoluto può esprimersi. può esprimersi, scusate. Questi due archetipi, come dicevo, uno è più un archetipo maschile, il sole lo rappresenta benissimo, e questo archetipo maschile si esprime attraverso l'uomo, il maschio. Le sue caratteristiche sono quelle di essere la forza, il coraggio, l'azione, tutto ciò che è maschile è qualcosa che si esprime all'esterno. Pensiamo anche al fisico dell'uomo, al suo modo di fare l'amore. L'uomo è emissivo, la donna è ricettiva. Tutto ciò che ha un'energia maschile è qualcosa che agisce all'esterno, il parlare. In questo momento sto utilizzando la mia energia maschile per comunicare. L'energia femminile invece è un'energia più intuitiva, è un'energia più silenziosa, più ricettiva. L'energia femminile è quell'energia nel mondo e nell'universo che ci permette di ricevere, di percepire, canalizzare i principi della vita, i principi dell'assoluto, trasmetterli alla nostra energia maschile e l'insieme di queste due energie andranno a creare nel mondo ciò che hanno ricevuto. C'è spesso, lo sento molto, questa competizione tra uomo e donna. Si dice la donna è meglio dell'uomo, l'uomo è meglio della donna. In realtà niente può esistere, può esprimersi nel mondo se non vi è uno sposalizio, un matrimonio tra l'energia femminile e l'energia maschile, perché l'energia maschile di per sé è la forma, è il contenitore. Pensate per esempio a un marito un costruttore di case, potrebbe fare delle case bellissime, ma se non ci fosse un principio femminile che gli dà l'input di creare un focolare sarebbero quattro mura e un tetto. Il principio femminile senza il principio maschile non potrebbe esprimersi, rimarrebbe un'idea, rimarrebbe un'intuizione, rimarrebbe un ponte, un contatto con l'assoluto, ma non potrebbe esprimersi nella materia. È l'insieme di questi due principi che possiamo esprimerci e l'uomo e la donna sono i rappresentanti nel mondo di queste due essenze, di questi due archetipi, ma ora tutto questo è andato perso. Perché? Perché in questa evoluzione che in realtà passa da un'involuzione, quindi questo tuffo nella materia che ci sta permettendo di separarci da Dio, se il femminile è quell'archetipo, quell'essenza che ci mantiene in contatto con la nostra anima, con l'assoluto, per separarci abbiamo dovuto rinnegare l'assoluto, rinnegare l'anima. Quindi nel nostro mondo esterno vi sono state delle energie, dei processi che sono andati a reprimere nel mondo in cui viviamo l'energia femminile. Quindi nel corso di in epoca in epoca, se vediamo le antiche civiltà, penso alla Lemuria, poi Atlantide, poi gli Egizi, i Greci, vediamo proprio un'involuzione rispetto al contatto, all'unione che abbiamo con l'assoluto, con lo spirito e l'energia maschile, che è l'energia pratica, l'energia dell'azione, l'energia della logica, ha preso il possesso a un livello della nostra società, ha iniziato a dominare i popoli, le menti e è andata a reprimere l'energia femminile, l'energia femminile è canalizzata, catalizzata dalla donna, quindi di in epoca in epoca la società è diventata sempre più maschile ed è andata a reprimere, a punire tutte le manifestazioni di questa energia femminile. Quindi vediamo, pensiamo all'inquisizione, pensiamo ai popoli autoctoni come gli indiani d'America, erano dei popoli che erano estremamente connessi col divino e canalizzavano le volontà dell'assoluto, canalizzavano una certa armonia e trasmettevano questa energia attraverso delle azioni, la loro società era basata sulle leggi della natura, sugli elementi naturali, sugli spiriti eccetera, quindi c'era un'armonia tra uomo e donna, tra maschile e femminile. In Tibet era la stessa cosa, in diverse civiltà abbiamo visto questo sposalizio, questo legame, ma è arrivata la civiltà, i popoli civilizzati, che cos'erano in realtà, perché noi ci definiamo civilizzati, ma la civilizzazione purtroppo oggi è l'essere distaccati da Dio, essere distaccati dalle leggi della natura, perché un popolo che vive in base alle volontà degli spiriti, alle volontà del divino, è un popolo che non è più civilizzato, un popolo che vive la sua nudità, che vive il suo corpo con armonia, non è civilizzato. Quindi la mente, l'energia maschile è arrivata in questo mondo per reprimere tutto ciò che era connesso al divino, questo perché fa parte di un'involuzione necessaria, che in realtà è un'evoluzione, che ci permette di conoscere la separazione da Dio, di riconoscerci in quanto anime, in quanto essere divini, per poi ritornare a un concetto di uno con una consapevolezza diversa. Quindi di nepoca in epoca abbiamo perso, abbiamo soppresso, abbiamo ucciso tutto ciò che era connesso con lo spirito. Fino a quando, più o meno negli anni sessanta, il pianeta Terra è entrato in una nuova era, si parla dell'era dell'acquario, dove il pianeta si sta impregnando di un'energia più femminile, perché anche il pianeta Terra ogni 2.120 anni più o meno, si impregna di un segno zodiacale diverso, con un'energia prima maschile, poi femminile, poi maschile, poi femminile. Quindi stiamo uscendo da 2.000 anni dove regnava l'energia maschile, quindi la logica, la mente, l'azione, una società patriarcale e adesso stiamo entrando in un'energia più femminile, dove questa energia andrà a riconnetterci al cuore, riconnetterci all'essenza, riconnetterci alla natura, perché noi siamo degli esseri naturali. L'essere umano crede di essere separato dalla natura, ma è un'illusione. Quindi negli anni sessanta c'è stato tutto un movimento dove in particolare le donne giustamente hanno cercato di riportare nella società l'uguaglianza. Cioè la donna diceva io valgo quanto l'uomo, io sono uguale all'uomo. Ma questo è un grave errore, perché la donna non è uguale all'uomo, la donna è diversa, siamo due cose diverse. La donna incanala quell'essenza femminile, quell'intuzione, quel contatto con l'assoluto e il maschile dovrebbe tradurla, dovrebbe costruire ciò che il femminile ha ricevuto. Ma nel momento in cui la donna ha iniziato a dire solo uguale all'uomo, non si è riposizionata nella società in un modo femminile, ma ha messo i blue jeans, a me ha preso su di sé un'energia maschile e sta agendo oggi nella società uguale all'uomo, dando luogo a diverse problematiche, non soltanto fisiche, perché la donna oggi soffre di dolori mestruali, di diversi tumori di vario tipo alle zone femminili e c'è un perché, ma anche proprio a livello della società, la donna non è più con lei che connette l'uomo, connette i figli e la società all'assoluto. Quindi è una società sconnessa dalle leggi naturali, sconnessa dal divino e ci guardiamo intorno, ne vediamo le conseguenze. È una società estremamente maschile, dove regna l'apparenza, dove regna l'estoriorità, perché? Perché il maschile è concentrato sull'esterno, fa parte della sua energia, della sua essenza, non può essere altrimenti. Siamo concentrati sull'azione, non sull'essere, siamo concentrati sul pensiero, non sull'intuire. E questo porta l'uomo e la donna ad essere in competizione, non collaborano per creare, non creano un matrimonio spirituale animico per creare una società armoniosa, ma si sgomitano, perché questo è il mio posto, no questo è il mio, no ma ti dimostro che la donna è forte e uguale all'uomo, ma no ti dimostro che l'uomo è meglio, è tutta una competizione, quando non dovrebbe esserci lotta tra uomo e donna. E in più è stato un altro movimento negli anni 60, un movimento che incarnava di più l'energia femminile, ma in modo estremo, quindi abbiamo visto delle donne che hanno iniziato a indossare degli abiti maschili, un'energia maschile, ma allo stesso tempo è nato il movimento New Age, che è stato molto interessante e avviviamo ancora un po' agli strascichi oggi, un movimento che era estremamente femminile, perché? Perché è venuto per distruggere quegli schemi, quel patriarcato, quelle leggi sociali, quelle regole che erano ormai vecchie, che bisognava sbarazzarsi un po' di certe regole sociali, di certe formalità, di certe apparenze per portare un po' all'essenza. Il New Age è venuto per questo, per dire alt, c'è altro oltre le regole, questo si fa, questo non si fa, ma c'è un'essenza, c'è un divino, noi siamo degli esseri liberi. Ma cos'è successo? Che questo essere troppo femminili, troppo in contatto con Dio, ci ha sconnessi anche dal maschile, dalla materia. Quindi abbiamo da un lato una donna che si è sconnessa dall'energia femminile e è diventata troppo maschile e dall'altro lato abbiamo un movimento apparentemente femminile, ma che fa diventare il diavolo tutto ciò che è materiale. La materia non va bene, il lavoro non va bene, la società non va bene, incontro molte persone che hanno malattie, patologie abbastanza gravi, per non dire gravi, e che rifiutano di curarsi con le medicine che abbiamo, con le cure che abbiamo, perché non sono cure spirituali. Quando invece abbiamo un corpo fisico, beh quel corpo fisico necessita di cure fisiche e lo spirito necessita di cure spirituali. Non vi è separazione tra corpo e spirito, ma è solo collaborando, curando il fisico, curando lo spirito, che arriviamo ad una guarigione completa e totale. Questi sono i due errori, se mi permetto, se posso dire, che sono nati un po' negli anni 60, dove ci hanno un po' ancora una volta depolarizzati. Ancora una volta avevamo l'occasione di ritrovarci la donna in quanto energia femminile e l'uomo in quanto energia maschile. Ci siamo persi di nuovo in tutto questo. Abbiamo visto anche di recente le elezioni in Francia, in America, c'è stata la Clinton contro Trump, in Francia abbiamo avuto la Le Pen contro Macron e molte persone mi hanno detto, ma che bello, finalmente vediamo il principio femminile in atto. Non ci sono più gli uomini, ma ci sono anche le donne. faccio fatica ad accettare questa cosa, perché in quelle donne, e lo dico davvero senza critica, senza giudizio, ma se devo dire dove ho visto il principio femminile, faccio fatica a cercarlo. In queste donne non ho visto ascolto, non ho visto perdono, non ho visto accoglienza, non ho visto amore, non ho visto compassione, non ho visto la madre, non ho visto una figlia, non ho visto una sposa, ho visto delle donne con corazze, con armi invisibili ma enormi, che facevano la guerra, pensiamo anche la Merkel in Germania. Sono delle, e lo siamo anche noi, mi ci metto anch'io, non è che noi siamo perfetti, mi ci metto anch'io nel senso che la nostra energia femminile è camuffata, è mascherata, siamo tanto belle esteticamente, ma dove nel nostro agire, nel nostro essere, vi è l'energia femminile. E come l'energia femminile, quindi tutto ciò che esprimeva il contatto con l'assoluto, il contatto con lo spirito, è stato represso, quindi ripeto, pensiamo alle streghe che erano donne, io all'epoca dell'inquisizione sarei stata la prima, perché dico cose un po' strane, vedo i defunti, vedo gli esseri di luce, eccetera. Tutte queste espressioni sono state represse, quindi pensiamo agli indiani d'America al Tibet, invaso dai cinesi, energia maschile che invade l'energia femminile. Allo stesso tempo sono stati deviati tutti quei simboli che ci riconnettevano allo spirito. È stato deviato il significato, il simbolo per esempio del ciclo mestruale della donna. è diventato il ciclo mestruale il peccato originale, cioè la punizione, la donna è stata punita perché Eva è stata la tentatrice. In realtà, se si guarda questa immagine da un altro punto di vista, Eva, il principio femminile, ha ispirato, ha iniziato il principio maschile in un'evoluzione che li portava a separarsi da Dio per evolvere. Eva non era peccatrice, incarnava il principio femminile che intuisce cosa bisogna fare, intuisce dove bisogna andare ovviamente da un punto di vista animico e lo trasmette al maschile che lui agirà per concretizzarlo. Il ciclo è tutt'oggi, ma lo viviamo un po' male, è quel periodo del mese dove la donna è estremamente connessa con le energie cosmiche, perché durante tutto il mese la donna accumula in sé quell'elemento, quel quinto elemento che è l'eterico, quindi abbiamo aria, acqua, fuoco, terra. Vi è questo quinto elemento che è l'etere ed è quell'elemento che serve per creare ogni forma di vita, non ci sarebbe vita se non ci sarebbe questo elemento sottile. Chi pratica un po' la lettura dell'aura, ancora prima che una donna rimanga incinta, vi è proprio già un livello eterico, l'impronta del bambino che verrà. Quindi la materia si crea prima un livello eterico e poi si plasma in base a questa energia, a questa forma. La donna accumula questo elemento eterico durante tutto il mese e l'elemento eterico, abbiamo anche un corpo eterico, tutti abbiamo dei corpi sottili, uno dei corpi sottili, quello più vicino, più denso è il corpo eterico ed è quel corpo che ci connette agli altri corpi sottili e fa da ponte tra la materia, il corpo fisico e mondi invisibili, i corpi sottili. Quando la donna durante tutto il suo mese accumula questo eterico, cosa succede? Che aumenta le sue vibrazioni perché accumula un'energia che è più sottile, più invisibile e al culmine di questo accogliere, quest'altra energia, la donna diventa un vero e proprio ponte tra il mondo fisico e i mondi sottili. Quindi in altre civiltà, in altre epoche, la donna si allontanava dal villaggio e non veniva cacciata, si allontanava in capanne nel bosco con altre donne che in genere avevano il ciclo nello stesso periodo perché era in uno stato di sensibilità estremamente particolare, non era più tanto nel mondo fisico, era in una dimensione parallela e in questo stato di coscienza alterato riceveva dei messaggi dalla vita, riceveva delle verità. Ad esempio se vi erano problemi nel villaggio, problemi di raccolto, problemi molto basici, molto terreni, bella donna riusciva a ricevere le informazioni, riceveva i messaggi per risolvere quel problema, donna ritornava nel villaggio dopo il ciclo e lo trasmetteva al villaggio, agli uomini e gli uomini avevano una venerazione e un rispetto nei confronti della donna che plasmavano il villaggio e la vita, la loro vita quotidiana in base a ciò che la donna aveva canalizzato. Oggi tutto questo è andato perso. Il ciclo mestruale è diventato un problema perché in una società produttiva, in una società maschile, la donna nel periodo del ciclo non produce come dovrebbe perché è estremamente in contatto con le energie femminili, con le energie cosmiche. siamo in uno stato alterato di coscienza dove non siamo lucide come dovremmo, non siamo produttive a livello fisico come dovremmo, ma è qualcosa di estremamente importante e il fatto che nella nostra società non venga più riconosciuto, si perde questo sposalizio, questo matrimonio, questa complementarietà tra principio maschile e principio femminile. e tra i diversi simboli che sono andati persi, che sono stati distorti, vi è quello dell'energia sessuale ed è qui che arriviamo. Ho fatto un po' una parentesi per capire come funzioniamo, che energie incanaliamo. L'energia sessuale, anche questa è stata attraviata, il suo simbolismo è stato un po' distorto, un po' tanto, perché è quell'energia, è quella bacchetta magica che ci permette velocemente di raggiungere quello stato di unità, quello stato di assoluto. Quando prima vi dicevo che abbiamo in noi quel motore che ricerca la persona perfetta, l'amore perfetto, questa ricerca di un compagno, di una compagna, è quel bisogno interiore in realtà di completarci, di ritrovare quella metà di noi che si è separata in principio. Abbiamo sete, bisogno di ritrovare quello stato unitario, quello stato divino e possiamo ritrovarlo solo in principio, riunendoci con il polo opposto, che non è tanto l'altro di fronte a me, non è tanto l'uomo, ma è il principio che vi è in lui. E attraverso la sessualità abbiamo la capacità di unirci con Dio, con l'assoluto che vi è nell'altro. Oggi la sessualità è diventata, scusatemi, ma un alleggerirci da un prurito fisico. Non è altro che questo, viviamo quel momento di piacere ed è finita lì. In realtà l'atto sessuale per me penso che sia il rito più forte e più importante per raggiungere uno stato di consapevolezza diversa. Ma l'immagine della sessualità, penso anche del tantrismo, sono state deviate apposta perché i grandi del nostro pianeta, quelli che ci governano, conoscono tutte queste leggi e non vogliono che l'uomo si risvegli. Un uomo risvegliato, un uomo libero non è un uomo manipolabile. Ora non entro un po' nella politica, in certi argomenti, non siamo qui per questo, però bisogna essere consapevoli che la nostra energia sessuale, come la nostra energia economica, sono la stessa cosa. L'energia creatrice che è in noi, all'esterno è l'energia economica, sono state deviate apposta affinché non abbiamo la possibilità di evolvere, di illuminarci. Quindi cosa succede durante l'atto sessuale? Se è fatto in un certo modo che i due poli, le due parti separate, che si sono separate in principio, si riuniscono e si ritrova uno stato di coscienza divino, si va oltre il velo dell'illusione, si va oltre questa dimensione di separazione, si entra in uno stato di coscienza alterato. Ma per far questo non basta il rito sessuale in sé. Si parla molto di tantrismo oggi, ci sono corsi di tantra ovunque, crescono come funghi questi corsi e anche questa pratica è stata un po' manipolata, abbiamo portato in occidente solo una parte del tantrismo. Il tantrismo è una di quelle pratiche che ci permette, come dicevo, di contattare uno stato di coscienza profondo, di contattare il divino e di riconoscersi in quanto divinità. Oggi si porta in occidente solo quello che ci interessa, nel lato fisico. In realtà grazie al tantrismo si può entrare in uno stato di connessione con sé stessi che si va oltre le maschere, si va oltre l'illusione. E' quella pratica che ci permette di unire in noi l'energia maschile e l'energia femminile. Quante volte nella nostra quotidianità siamo identificati con le nostre maschere, con la nostra esteriorità, con quello che crediamo di essere, ma non ci riconosciamo in quanto anime, in quanto essere di luce. Lo sguardo che abbiamo su noi stessi, attraverso questi filtri queste maschere è il modo in cui vediamo anche l'altro. La persona che ci sta di fronte la vediamo con le sue maschere, ma non la riconosciamo in quanto anima, in quanto essere divino. Quindi quando ci uniamo all'altro, a cosa ci uniamo? Alla sua parte fisica, alla sua parte materiale. Quando invece l'atto sessuale sarebbe io mi sono ritrovata, ho ritrovato, e faccio l'amore, mi unisco al divino che passa attraverso l'altro. Non faccio l'amore col nome, con Pinco Pallino, con... Faccio l'amore, mi unisco col divino che mi ama attraverso il corpo, che mi ama attraverso l'altro. E da quell'unione nasce proprio un campo energetico che ci può portare ad uscire dal corpo fisico e a vivere esperienze particolari. Allora, alla base del nostro essere, a livello del nostro bacino, vi è questa energia creatrice che in India chiamiamo anche Kundalini, ed è quell'energia che ci permette di creare ogni cosa. Ogni volta che scriviamo una poesia, che dipingiamo, che creiamo una musica, ma anche una rivoluzione che affermiamo il nostro pensiero, c'è un'energia in noi, c'è un fuoco che ci anima di un certo tipo. Beh, quell'energia è l'energia creatrice, è quell'energia unitaria che custodiamo, che custodiamo in noi, è quella cellula che eravamo, che si è separata da Dio. Nel momento in cui noi, nella nostra quotidianità, utilizziamo la nostra energia creatrice in un dinamismo maschile, nell'azione, nella logica, nell'esteriorità e non impregniamo questa energia, non dedichiamo la nostra quotidianità a dei principi d'assoluto, se osserviamo il nostro orgasmo, in Francia si dice gioire, piuttosto di dire l'orgasmo, i francesi dicono giojui, gioisco. Mi piace tantissimo questa cosa, se noi osserviamo il nostro modo di gioire, soprattutto la donna, vediamo che l'energia dell'orgasmo, quindi l'energia creatrice, si diffonda a un livello orizzontale, a livello del bacino. Questo perché le energie dell'ego, le energie della personalità, si esprimono ad un livello duale opposti, quindi a un livello orizzontale. Nel momento in cui noi utilizziamo le nostre energie nella quotidianità, mettiamo al servizio la nostra energia creatrice per l'assoluto, cosa vuol dire? Che ogni cosa che facciamo, ogni cosa che diciamo dal nostro lavoro, la nostra coppia, l'educazione dei nostri figli, il nostro modo di mangiare, se dedichiamo le nostre azioni a una volontà unitaria, quindi a una volontà dell'assoluto, iniziamo a canalizzare la nostra energia creatrice in modo verticale e nel momento del nostro orgasmo l'energia creatrice si esprimerà come noi siamo. Se noi utilizziamo questa energia in un modo verticale, spirituale, il nostro orgasmo non si esprimerà più un livello orizzontale intorno al bacino, ma sentiremo proprio che questa energia inizierà a salire lungo la nostra colonna vertebrale, è la famosa illuminazione, ci sono vari step, e sono ben lontana dall'esserlo, ma possiamo vivere proprio un'uscita dal corpo fisico, si chiama anche l'orgasmo cosmico, dove finalmente ritroviamo quello stato unitario e poi ritorniamo nel corpo fisico e portiamo una parte di quell'unità e più viviamo una relazione sessuale di questo tipo, più viviamo l'unità con l'altro e più noi stessi diventiamo esseri uniti, dove il maschile e il femminile si esprimeranno in unione all'interno di noi. Ma fin tanto che ci mettiamo in coppia con qualcuno per riempire un nostro vuoto, fin quando l'altro diventa l'oggetto che va a colmare dei bisogni della nostra personalità, dei bisogni egoici, chiudiamo la nostra coppia in una scatola molto limitata, dove potremo vivere esperienze, potremo gioire a un livello sessuale in modo estremamente limitato. La coppia iniziatica che cos'è in realtà? Sono due esseri che non hanno più bisogno di completarsi attraverso un'altra persona, sono esseri che si bastano da sé, sono esseri che hanno ritrovato la completezza in sé, hanno ritrovato l'altra metà separata da Dio all'interno del loro essere, non hanno più bisogno di star bene con qualcuno al loro fianco, a un livello orizzontale, ma stanno bene trovando qualcun altro a un livello verticale. Nel momento in cui ci si sposa con l'assoluto non si ha più bisogno di niente. Pensate un po' ai nostri preti e alle nostre suore, a loro è stata un po' obbligata la cosa, no? Non ti sposi con nessuno perché devi sposare l'assoluto. In realtà dovrebbe essere una conseguenza. Sono due esseri solari, due esseri che hanno ritrovato la completezza in sé e che si uniscono non per un prurito fisico, non per un bisogno emotivo, psicologico. Si uniscono perché la loro unione fa parte di una volontà cosmica, di una volontà assoluta. Se abbiamo ritrovato l'unità in noi, la ritroviamo anche all'esterno. L'ho già detto altre volte, il mondo esterno, la proiezione di chi siamo all'interno di noi. Quindi nel momento in cui vi è uno sposalizio tra materia e spirito, tra maschile e femminile, allo stesso tempo all'esterno troveremo quella persona perfetta. Quella stessa persona dovrebbe avere queste caratteristiche e dedicano la loro unione per scopi ben più alti, anche l'orgasmo. È una coppia che si apre agli altri, è una coppia che dedica la propria energia, la propria unione al servizio della vita. In antichi tempi, quando vi erano delle anime gemelle che si ritrovavano, che si incontravano, sceglievano di dedicare il loro orgasmo a missioni ben più alte. Se vi erano problemi planetari, vi era siccità, non pioveva da diversi mesi, attraverso il loro gioire contattavano una certa divinità, un certo stato di coscienza che potevano comunicare con gli elementi della natura e chiedere la pioggia ad esempio. Le Vestali in Egitto, a volte mi capita di rivivere vite passate, di ricordarmi e le Vestali in questi templi, tra le diverse cose che facevano, praticavano anche la masturbazione, come la chiamiamo noi oggi, che era in realtà un rito anche lì estremamente sacro, dove non vi era nulla di sporco, dove utilizzavano, attivavano in noi quelle energie superiori, quelle energie divine, quindi le attivavano insieme ma potevano anche attivarle in altre persone e dedicavano il loro gioire, il loro orgasmo alla guarigione ad esempio di altre persone, sceglievano di inviare l'energia del loro gioire a determinate persone che ne avevano bisogno o a situazioni planetarie che ne avevano bisogno. Una coppia solare, una coppia iniziatica sono due esseri liberi che si uniscono, oggi abbiamo la tendenza di chiudere l'altro in una scatola, sei mio, mi appartieni, non puoi far questo, non puoi far quello, non mi sfuggi, non guardare perché sono geloso e c'è un chiudere le ali alla persona. Una coppia di questo tipo, una coppia che davvero si amano in quanto anime, in quanto esseri liberi, beh i due si aiutano ad esprimere la loro libertà, ad esprimere la loro luce. E nel momento in cui si lascia libero l'altro di essere se stesso, di connettersi alla sua anima, l'altro ha la possibilità di ritrovare pienamente la sua energia cristica, la sua energia divina e in quel momento quella persona, ma anche noi stessi, incanalizzeremo tutte le energie del principio femminile se si è femmine, del principio maschile se si è maschi e l'altro non andrà più a cercare un'altra persona, l'amante, il compagno eccetera, perché in quella persona troverà tutti gli elementi del principio maschile e del principio femminile che stava cercando. Non abbiamo bisogno di andare a vedere nessun altro. Nel momento in cui noi, noi stessi, siamo connessi e riusciamo a ritrovare il nostro sé superiore, in quel sé vi sarà il tutto. E va al di là del corpo fisico, perché spesso ci sono donne che mi dicono sì, ok posso incarnare tutto il principio femminile ma non sono bella, nessuna mi vuole. Beh non è vero, perché l'energia del sé superiore, l'energia anche tantrica, si sprigiona da tutte le nostre cellule ed è quello che ci tocca nell'altro, che ci fa innamorare. Non è tanto il fisico, è una luce negli occhi che ci colpisce, è qualcosa che abita l'altro in quel momento e che ci attrae. È come una parte del divino che si esprime attraverso l'altro e noi attraverso quella luce è come se ci sentissimo bene, ritroviamo uno stato unitario. Ho conosciuto ragazze bellissime esteticamente ma che avevano difficoltà ad incarnare la loro energia femminile, erano piuttosto maschili e avevano diverse difficoltà a trovare un compagno. Ho conosciuto altre donne che non rispettano i canoni imposti dalla nostra società di bellezza estetica, ma esprimevano una femminilità interiore, una luce, un'energia tantrica, un'energia sessuale che toglieva il fiato. Noi è questo che andiamo a cercare, quando il motore che ci spinge, non cerchiamo la persona perfetta esteriormente, ma cerchiamo quell'anima che esprime quella luce, quel divino che andrà a completare la parte di noi che si è separata, quella parte che ci manca. Però a volte tendiamo, vediamo una luce nell'altro, vediamo questo bagliore, questo pollo opposto e tendiamo a volerlo tutto per noi, ce lo prendiamo e a volte stiamo insieme a quella persona tutta la vita, ricercando quel bagliore che in realtà si è espresso solamente per un attimo. Bisogna stare attenti a vedere, a fare la differenza tra un'unione animica e un innamoramento materiale passeggero, sono due cose ben distinte, perché quando vediamo quel bagliore negli occhi di qualcuno, subito una parte di noi vuole possederla anche ad un livello sessuale, ma nel momento in cui portiamo quella luce a un livello fisico, tutto si perde, viene a mancare, perché è come se quella persona fosse un messaggero di una parte di voi, è un pezzo del vostro puzzle, della parte separata di questa parte di noi che abbiamo perso e ci sono delle persone che vengono a riaccendere quel fuoco, ma bisogna anche imparare a lasciarle libere, a non dover per forza viverle da un punto di vista sessuale e fisico. Invece oggi, per via del nostro ego, di questo io, abbiamo bisogno di vivere il divino e la luce attraverso la sessualità, ma nel momento in cui riusciamo a fare l'amore con ogni essere, ma un amore animico, spirituale, ritroviamo quella completezza che non ha più bisogno di essere vissuta in modo fisico. L'atto fisico diventa così una scelta, scelgo di fare l'amore in quel momento, di unirmi al divino che vi è nell'altro per creare nel mondo, per dedicare quella luce divina, quell'orgasmo per degli scopi ben precisi. La coppia iniziatica è una coppia che si apre agli altri, che non si chiude su se stessa. E l'anima gemella, che cos'è? Oggi sto un po' toccando varie argomenti, sarebbero poi tutti da approfondire, abbiamo poco tempo, però almeno per dare un'idea un po' della coppia che stiamo vivendo oggi. L'anima gemella, come dicevo, è questa parte, questa metà di noi, polarizzata diversamente, che vive altre esperienze, ha un corpo fisico, può essere incarnata sul pianeta come no, può vivere in altri mondi e è una parte di noi che un giorno rincontreremo, che andremo a reintegrare nel momento in cui noi saremo riusciti nella materia a riunire maschile e femminile. Quando saremo riusciti a essere connessi con il nostro sé superiore, con la nostra anima e attraverso il corpo fisico, attraverso il maschile, attraverso l'azione, riusciremo ad esprimere questa luce, quindi lo sposalizio perfetto, incontreremo la nostra metà di noi perfetta, quest'anima gemella, ma fin tanto che non saremo pronti sarà difficilissima incontrarla, in più io dico occhio a chiamarla l'anima gemella, perché si pensa che quando la si incontri sia tutto rose e fiori, ma non è assolutamente così, perché siamo in una dimensione dove veniamo ad evolvere, a crescere la nostra luce, a crescere il nostro amore, ogni evento che avviene in questa dimensione viene a noi per aiutarci a crescere, quindi anche l'amore, l'amore davvero assoluto lo possiamo incontrare a delle altre dimensioni, per esempio attraverso un orgasmo di un certo tipo possiamo incontrare la nostra anima gemella in altre dimensioni, ma a un livello fisico quella persona arriverà per toccare le nostre ferite, per farci muovere, per far fare al nostro ego un salto in avanti, quindi saranno incontri estremamente difficili e estremamente dolorosi, quindi vado un po' a smorzare questa idea dell'anima gemella, si dice che la si incontri soltanto 12 volte nel corso di tutte le incarnazioni, quindi siamo ben lontani dal riunirci a lei, ma possiamo davvero iniziare a vivere il nostro compagno o la nostra compagna come proprio il canale di questa metà di noi, come il canale di questo principio opposto e proviamo mentre facciamo l'amore, mentre ci uniamo alla persona di amare il divino che passa attraverso quella persona e non aspettiamoci di arrivare a sera al far l'amore, che tutto sia perfetto e si vivano i fuochi d'artificio, il tantra è un'azione, è un rito che inizia dalla mattina appena svegli, è un guardarsi, è un toccarsi, è un mettere in moto un far l'amore con la nostra vita, con noi stessi nella nostra quotidianità, è il far l'amore con ogni persona, dietro ogni sguardo, questo mette in moto un'energia di un certo tipo che quando ci uniremo fisicamente a un'altra persona, in quell'azione ameremo attraverso per esempio, io sono donna, attraverso il mio uomo posso amare tutti gli uomini che esistono nel mondo, non ho bisogno di andare a letto con tutti, perché quell'uomo canalizzerà tutto il principio maschile, non abbiamo bisogno di altro e non sto facendo l'amore soltanto al corpo fisico o alla personalità della persona, ma sto facendo l'amore ad altro, mi riunisco a Dio, all'assoluto, ritrovo l'unità. Comunque ecco, il nucleo, il succo era proprio quello di iniziare a vivere la coppia in modo diverso, in modo meno egoistico, in modo meno fisico, meno riguardante la personalità, ma iniziare proprio a vivere quell'unione come l'unirsi con qualcos'altro e quell'unione è innanzitutto da trovare in se stessi, perché nel momento in cui noi ci completiamo, troveremo la completezza perfetta anche all'esterno. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti.